La competizione elettorale non ha distolto l'auria dai festeggiamenti in onore del Beato Domenico Lentini. Dopo dieci giorni di un intenso cammino religioso, lunedì 25 in tanti si sono recati a pregare nella chiesa di San Nicola di Bari, dove si trovano le reliquie del Beato. Un signor Nunzio Galatino, vescovo di Cassano all'Oionio, nella sua omelia ha ricordato la figura del Beato, un uomo penitenti, innamorato di Dio e segnato profondamente per la passione per gli uomini e le donne che il buon Dio affidava direttamente al suo ministero, una figura di cui si ha bisogno anche oggi, ha sottolineato Monsignor Galatino. Il padrone di Lauria è stato proclamato venerabile nel 1935 da papo Pio XI e nel 1997 sua santità Giovanni Paolo II lo ha solennemente proclamato Beato. A febbraio del 2010 poi la congregazione delle cause dei Santi di Roma ha aperto il plico per la canonizzazione del Beato. All'esame c'è la guarigione di un giovane di Lauria presentatosi come caso disperato dopo un incidente sul lavoro. L'eredità che il Beato Lentini ha lasciato è stata sottolineata anche dal vescovo della diocesi di Tursi Lago Negra, Monsignor Francesco Nolè. Ciò che conta veramente nella vita è amare e questo ha spiegato Nolè il nucleo della santità del Beato Lentini.